Monica Perugna, presidente di due colori nel vento Omero, ci racconti un attimo perché sei a fare questa regatta di WeWorld? Sono a fare questa regatta tanto perché io sono una regatta della vela quindi vengo in mare, mi prendo l'acqua, faccio la velista come si deve e poi perché penso che sia giusto, era giusto dare un contributo anche senza partecipazione in questo caso, però visto che possiamo partecipare siamo contenti di farlo e speriamo di riuscire a partire più che altro. Va bene, l'importante è partecipare diceva De Coubertin, ma avete detto che voi basta arrivare anche ultimi e va tutto bene, quindi penultimi. Viaggio Pergola, capoflotta della flotta spezzina della classe Meteor, siamo qua per la regatta di WeWorld. Ci dici qualcosa Viaggio di questa iniziativa alla quale avete aderito? È un'iniziativa sicuramente da onorare anche se il tempo oggi sembra purtroppo non darci ragione. Pensavamo a una partecipazione migliore però proprio per queste cattive condizioni probabilmente molti equipaggi hanno disertato questa prova. Mi auguro che possiamo onorare in un'altra occasione, magari il prossimo anno, questa bellissima cosa. Sì, però so che molti non parteciperanno fisicamente con la barca ma si sono comunque iscritti perché la tassa di iscrizione, dirlo tu. Esattamente, sì, io ho chiesto una partecipazione solidale, quindi una tassa di iscrizione solidale per cui molti equipaggi, veramente quasi tutti, hanno aderito anche se poi in acqua non saranno presenti e hanno aderito proprio per essere partecipi di questa opportunità e di questa occasione che ringraziamo WeWorld per averci offerto. Bene, quindi in qualsiasi caso la Classe Matter, la Spezzina, il suo contributo l'ha dato e ci sarà. È presente. Grazie Viaggio. Grazie, grazie a voi.